Appuntamento al Teatro Carlo Felice per le ultime recite dei Due Foscari. L'opera di Giuseppe Verdi, che nello spettacolare allestimento di Alvis Hermanis, ha saputo incantare il vasto pubblico genovese. In una splendida Venezia che prende forma, quasi fosse disegnata a China, grazie alle proiezioni che ben si sposano con i costumi rinascimentali, al centro del dramma troviamo l'eterno conflitto tra dovere e sentimento, tra le leggi della Repubblica e le leggi del cuore, tra gli obblighi del doge e l'affetto di un padre per il proprio figlio. Da una parte infatti c'è Francesco Foscari, il doge di Venezia, dall'altra il figlio Jacopo, accusato ingiustamente di un doppio omicidio, senza poter dimostrare la sua innocenza. E il padre non può fare nulla per impedire la sua sorte. Tra loro si staglia Lucrezia Contarini, la moglie di Jacopo. In questa produzione interpreto il ruolo di Lucrezia Contarini, nella bellissima, diciamo anche rarissima per l'interpretazione, opera del grandissimo maestro Giuseppe Verdi che si chiama I due Foscari. E io sono appunto figlia e nuora in questa importante famiglia anche con dei problemi che finisce in un modo che dovete venire a vedere. Ecco, non ve lo svelo. Io in quest'opera ho due arie e sono veramente due gioielli. La prima apre la mia entrata e la ultima purtroppo è triste perché parla del... siccome Jacopo non c'è più il marito di Lucrezia, quindi una è più di un carattere di impatto più forte e l'altra invece racconta più il suo dolore.